Buongiorno, mi chiamo Andrea Ferrari, sono candidato alla Camera dei Deputati per la lista di Fratelli d'Italia. Non perdiamo tempo sulla genesi di Fratelli d'Italia, che è comunque una lista parentata al centro-destra. Veniamo alle cose che vorrei dire in merito all'università e all'istruzione generale. Indubbiamente cinque minuti sono un tempo non sufficiente per affrontare in maniera significativa le problematiche dell'università e dell'istruzione in Italia, però è anche vero che per le cose di principio e che mi stanno a cuore dire, probabilmente sono più che sufficienti. Anzitutto una premessa. A me piacerebbe che al di là di questo dibattito, in generale, quando si parla di università e di istruzione, non ci siano ricette antitetiche, nel senso che credo che il contributo di tutti, coloro che si occupano di politica, dovrebbe avere un medesimo obiettivo quando si parla di università e di istruzione, ovvero la crescita culturale del paese di domani. A volte invece, purtroppo, assistiamo a degli atteggiamenti connotati di pregiudizio verso delle proposte che provengano da una realtà politica, tra virgolette, avversa. Fratelli d'Italia, ovviamente, è una realtà che pone al centro del proprio agire politico il merito e l'equità sociale, valori che, ovviamente, individuiamo anche negli obiettivi che ci poniamo in tema di università e di istruzione. Università e istruzione che devono essere i luoghi che, unitamente alla famiglia, rappresentano, appunto, devono essere protagonisti nella formazione della persona e nello sviluppo culturale del paese. Dicevamo, merito ed equità sociale, che dobbiamo calare sia nell'ambito del corpo dei docenti, sia degli studenti. Per il primo aspetto deve essere ancora fatto tanto per debellare una piaga che si annida all'interno dell'università, che è il nepotismo. Accanto a professori rispetto ai quali, e posso dirlo anche per esperienza, visto che mi sono laureato in questo teneo, bisogna togliersi tanto di cappello per la devozione e per la dedizione che danno alla professione, ce ne sono tanti che non si può dire altrettanto. E così come giustamente si pretende una classe politica che ponga alla base delle proprie motivazioni anche e soprattutto le esigenze della società, altrettanto dobbiamo pretendere da parte del corpo dei docenti, che non devono essere costituiti da professori che ambiscono ad avere questo titolo più che altro per magari farne sfoggio in un'aula di tribunale o per legittimare dei compensi superiori. Insegnanti che in questo caso finiscono per sfruttare i ricercatori e i dottorandi, i quali a loro volta un giorno potranno, in alcuni casi purtroppo, diventare professori non tanto per il merito quanto per il grado di devozione rispetto alle esigenze dei professori da cui dipendono e spesso anche esigenze di natura personale che esulano da quelle della ricerca dell'ottorando. Per quanto riguarda invece l'aspetto degli studenti, noi vogliamo puntare molto l'attenzione sulla valorizzazione di strumenti come le borse di studio e il nostro strumento che proponiamo si chiama prestito d'onore e anche garantire il confronto tra studenti provenienti da varie realtà europee e quindi fare sì che ci sia un confronto tra gli studenti all'interno dell'università che speriamo possano essere aperte anche ora, oltre le orari di didattica. Per concludere vorrei dire che Fratelli d'Italia, da un noto esponente non di centrodestra quale è Gian Antonio Stella, è stato riconosciuto come, insieme a SEL, l'unico movimento politico che ha prestato una certa attenzione ai problemi dell'università. Grazie. Grazie. Grazie.